Ciao a tutti e benvenuti in domande risposte, andando subito a prendere le vostre domande. Parto subito dalla domanda di Claudia che mi dice Ciao Sostrato, ti volevo chiedere alcune cose su Animal Crossing. Allora, quando si sblocca la caffetteria e come faccio a sbloccarla? La caffetteria è un'opera pubblica da costruire all'interno del villaggio, costa circa 298.000 stelline e non può essere abbattuta. Questa si può fare dopo che abbiamo costruito il secondo piano del museo e dopo che abbiamo raggiunto 50 oggetti o animali e insetti donati al museo e bisogna aspettare una settimana dall'apertura del secondo piano. Questi sono i requisiti che Platero vi chiederà per costruire la caffetteria. Altra domanda, dopo quanti giorni di gioco arriveremo? Se non ricordo male, 3 o 4 giorni. Come faccio a modificare i capelli? Devi andare da shampoo, la bottega sopra, ago e filo. Poi, come faccio ad avere l'annaffiatoio per i fiori e è facile da ottenere? Allora, l'annaffiatoio per i fiori devi fare la scelta perfetta. Ho fatto un video, ve lo spiego io, vai pure a vedere. Spero che mi risponderai. Grazie Claudia. Grazie, sei bravissima. Ciao Claudia, grazie anche a te. Poi, ciao Strato, qual è il tuo gioco preferito per Xbox One? Qui non si firma. Quindi, allora, il mio gioco preferito per Xbox One, ora com'ora è Forza Motorsport 5. Poi, come si fa ad avere Mi, Mei, Chu su Super Smash Bros? Io ho messo il codice e non mi è venuto Duccio Gamer. Ciao Duccio. Allora, se non mi ricordo male, per avere Mei, Chu dovreste vedere entrambe le versioni. Quindi, quella per Wii U e quella per Nintendo 3DS. Quindi, poi lo puoi scaricare. Poi, Strato su Facebook. Mettereste altri QR code? Sei bravissima e bellissima. Dai Lisa. Ci fa vedere il gatto? Ecco, se ne è appena andato via, quindi non posso far vedere il gatto. Però, altri QR code? È vero? Cavolo, me ne dimentico sempre. Le voglio mettere e poi me ne dimentico sempre. Cercherò di appuntarmi a qualche parte e farlo. Il giorno del tuo compleanno? Ti dà fastidio che Fabi Jai dice molte parolacce? Sofia. Allora, il giorno del mio compleanno è il 18 agosto. Ti dà fastidio che Fabi Jai? A me no, non mi dà fastidio. Come si fa ad aprire la caffetteria su Animal Crossing New Leaf? L'ho già risposto prima, quindi non sto a ripeterlo. Però, la domanda l'ho vista, quindi l'ho letta. Poi, come si fa a scegliere il tuo personaggio in Animal Crossing Goombal? Allora, Goombal, praticamente è casuale. All'inizio del gioco ti faranno delle domande e loro, in base a come rispondi, crei il tuo personaggio. Ciao, strato! Ti volevo domandare dove posso trovare il megafono su Animal Crossing New Leaf. Allora, il megafono si trova da Marco e Mirko. Yes! Stratu, la mia domanda è questa. In Animal Crossing come si fa ad avere la caffetteria a Marti? Oh, la miseria, questa caffetteria va per la maggiore. Ripeto, l'ho detto prima, quindi penso di aver risposto alle vostre domande. Ciao, Stratussina, sono una nuova iscritta. Farei un altro live su Animal Crossing e vorrei visitare la tua città. Posso, anche se non so come fare. Allora, non ti sei firmata, comunque un altro live lo farò quando avrò tempo. Ripeto, non ho molto tempo. Visitare la mia città, si può fare solo se scambiamo il codice amico. Io ho finito i posti liberi del codice amico e per adesso non faccio più visite, solo nelle live, al limite. Ma anche quello, non so, poi. Ciao, come hai fatto a sbloccare il Brico e Mirko, Priscilla, ti seguo e mi piace molto il tuo video. Ciao Priscilla, allora. Marco e Mirko hanno vari step di grandezza e a seconda di quante stellini praticamente spendi all'interno del loro negozio. Quindi, la prima step che è Emporios è che bisogna spendere 12.000 stelline. Poi c'è il supermercato, sono 25.000 stelline. E poi c'è il home center, che sono 50.000 stelline. E poi il department store, che è quello più grande, quello che sto cercando di fare, 100.000 stelline. E bisogna essere approvati dalla Griff Stilista. Bene. Quando uscirà il nuovo gioco di Legend of Zelda? Grazie a Priscilla. È uscito il 13 di febbraio e sto facendo video. In Pokémon Zaffiro Alpha. Catturare tutti i leggendari? Sono tantissimi. Non ti sei firmato o firmata? No, non li catturerò. Dove hai comprato la Wii U? E a quanto? La tua opinione sulla Wii U? Insomma, raccontici qualcosa sulla Wii U. Allora, non ti sei firmato o firmata? La Wii U l'ho comprata a GameStop, a quanto non me lo ricordo, perché avevo portato indietro un sacco di giochi. E quindi, mi sembra su 100 euro. Poi, la tua opinione sulla Wii U? A me piace un sacco. Mi piacciono i giochi Nintendo, quindi l'ho presa per quello. Ognuno poi trova il suo motivo per acquistare una console. Altra domanda di Mattia. In Tuvodaci Life, quando uno si dichiara, posso esserci più di tre pretendenti? Sì, no. No, 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 non lo so. Allora, diciamo così, non lo so, perché non mi è mai capitato. Sono arrivata al massimo a tre. Ciao, Stratu. È la prima volta che ti iscrivo e spero mi risponda. Quanti anni hai? C'è scritto all'inizio, non lo dico, l'età. Ti piacciono i manga? Sì. Sei carinissima. Ciao, grazie. Da Marika e Erika. I nostri nomi si scrivono con la K. Perfetto. Ciao Marika e Erika. Da ora in poi, per giocare a New Life, userai il 3DS o il New 3DS XL. E Leonora, ti adoro. Oh, grazie Leonora. Allora, ciao. Allora, io uso... Per registrare uso sempre il 3DS. E sto aspettando che in Giappone facciano anche la modifica per il New 3DS. E quindi, appena poi farà una modifica, spedirò il 3DS e inizierò a giocare con il nuovo 3DS, scusate. Però adesso ci gioco a quei giochi che ancora non avevo iniziato. Anche perché, come ben sapete, non possiamo giocare sia allo stesso gioco, sia nelle due console. Purtroppo il Nintendo ha questi blocchi qui. Che cosa sono quelle stelle in alto a sinistra sulla schermata iniziale di Tomodashi? Io non ce l'ho. Francesco. Per quel commento è sempre. Ciao Francesco. Allora, quelle su in alto a sinistra, quelle stelle sono steline di gradimento. Quindi, te continuo a fare le richieste e poi ti si apriranno. Più richieste fai, soddisfi, e più il gradimento aumenta. Ciao Strato, come hai fatto a avere la griffa? Come hai ottenuto la caffetteria? Spero che mi risponderai. Grazie mille Claudia. Ciao Claudia. Allora, la caffetteria l'ho detto all'inizio del video, come si fa, e la griffa non ho ancora vista. Strato, mi puoi dare il tuo codice amico del new 3DS? Così ti aggiungo sul mio. Nei commenti dirò il mio. Da Jeanne. Allora, ciao Jeanne. Non do il mio codice amico perché praticamente sto aspettando, l'ho detto prima, sto aspettando di trasportare tutti i miei dati da 3DS normale a 3DS Excel, normale al mio nuovo 3DS Excel. E quindi, alla fine, avrò sempre la stessa limitazione dei 100 posti che sono finiti perché trasporto proprio tutti i dati. Quindi non posso dare il mio codice perché poi dopo li cancellerò, quindi non si, purtroppo. Aspettiamo che Nintendo si decida a sbloccare tutto questo ambaradan e queste limitazioni. La domanda di Anna Rita, ma quando, Strato, ma quando vado su questo sito per fare domande? Sopra c'è scritto che non posso chiederti l'età perché non ti preoccupare, non voglio sapere l'età, ma per motivi di privacy, così. No, 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 ho fatto mio, così, per far rimanere una curiosità a tutti, insomma, perché non è bello sapere tutto, è bello sapere anche rimanere un po' nel mistero, così, che giocare praticamente. La domanda di Anna Lisa, da Ciao, Strato, Ciao, innanzitutto, volevo dire che adoro i tuoi video e che mi sono stati utili. Grazie, mi fa piacere. Volevo anche farti due domande. Qual è il tuo gioco preferito per 3DS in assoluto? Cioè, non ho proprio un preferito in assoluto, ma se devo scegliere con l'acqua alla gola, così, dico, Luigi, Nansion 2, Come mai non continui Disney Magic World e che senza tutti i gameplay sono persa? Non faccio più Disney Magic World perché non ho tempo. Purtroppo questo tempo servirebbe una giornata da 48 ore per giocare a tutto e quindi a qualcosa devo abbandonare. E Disney Magic World l'ho abbandonato perché è veramente grande come gioco e diciamo che tra tutti è quello che mi entusiasma un po' meno. Preferisco Animal Crossing a Disney Magic World. Cioè, è un bel gioco, però The Gustibus si sa, i gusti sono gusti. Oggi può bastare. Ciao a tutti al prossimo domande e risposte. Grazie per aver visto il video e un saluto a tutti. Ciao!